Una cosa è certa, non ci sono ancora tante persone che decidono di farlo in maniera così deciso e in maniera, se vuoi, anche così manifesta. Poi sono certa che ci sono un sacco di persone, ma perché io le incontro, le incontro durante gli incontri che faccio, conferenze che faccio, ci sono le persone che hanno deciso di avere un passo lieve sul mondo, ma è proprio di questi eroi silenziosi che bisognerebbe parlare di più. Ovviamente io ho avuto l'attenzione perché poi ci ho scritto un libro, essendo un personaggio, allora andate in quel modo, ma in realtà, secondo me, dovremmo riempire i nostri notiziari, le nostre notizie di tutti quegli eroi silenziosi che tutti i giorni si applicano affinché il mondo possa diventare un posto migliore. Oggi, nell'epoca della libera informazione, restare ignoranti è il peggior danno che possiamo fare e compiere e infliggere a noi stessi, perché un tempo la cultura si presupponeva che era una cosa cartacea, che dovevi fare un atto di volontà, uscire, andarla a comprare, andare nelle librerie, andare nelle biblioteche, ma adesso oggi tutti abbiamo uno smartphone in tasca. E allora, piuttosto che guardare le notizie di gossip, becero, si potrebbe capire come impattare meno sull'ambiente. Lì dipende anche l'utilizzo che noi facciamo del nostro tempo e della nostra tecnologia. Sicuramente Milano è una città con una grandissima consapevolezza rispetto a Catanio, per esempio sono catanese e sicuramente mi rendo conto che ancora lì siamo abbastanza indietro. Però se poi metà della mia famiglia vive in Svezia e vado a trovarli a Malmo, mi rendo conto quanto noi di Milano siamo estremamente arretrati. Quindi dipende dal punto di vista in cui si guarda, ma al di là di guardare agli altri, secondo me la cosa che noi dobbiamo fare è guardare a noi stessi e capire là dove siamo, che sia Catania, Frosinone, Milano, Bergamo, Malmo, Stoccolma, fare noi la differenza. Cioè il singolo ha un potere enorme, ma se non lo mettiamo in atto non lo potremo sapere mai.